Benvenuti picciotti in questo nuovo video di FamGamers, oggi andremo a vedere l'ultima sfida di Jurassic World Evolution 2 Se vi siete persi le sfide precedenti, la storia o la campagna, le teorie del caos, le trovate tutte nella playlist qua sopra Fotografia in California Il parco nazionale di Yosemite ospita svariati dinosauri che vivono liberamente in natura Sebbene quest'area sia per lo più interdetta agli esseri umani, il DFV avrà il permesso di inviare un veicolo per scattare foto a scopo di ricerca Il tempo a tua disposizione sarà molto limitato, ma in che senso? Cioè devo fare solo le foto? Fotografia in California Tempo 15 minuti Contanto iniziale 0 Sfida fotografica Con fine di gioco espandibile Ma? Che sfida è? La gloria sublime di Yosemite Davvero una meraviglia naturale del mondo Sembrerebbe un ambiente quasi ideale per i dinosauri Quasi Secondo me dovremmo concentrarci sulla fotografia Senti un po' l'idea Foto di dinosauri uguale soldi? E beh Anche una certa rilevanza scientifica Quindi Nel contempo anche i cervelloni ne traggono vantaggio Fincono tutti Ok, qua abbiamo già tutto pronto Mi porta già alla macchina così d'obbligo Dovemmo fare tot foto Dovemmo fare tot foto Giriamo e facciamo foto Io non ho visto neanche la Ah, non posso neanche scendere da sto coso Semplicemente girare e fare foto Ci sono altri di là Quello è il sasso E niente, facciamo i fotografi E qua dovrei aver fotografato tutto E dove devo andare a fare le altre foto Oh, non ci è cappottiamo proprio ora Io l'ho già fotografato Boh Dove devo fare le altre foto Beh, andiamo lì Ciao Galliminchius Oh, che cazzo fai insieme Io non vedo niente qua Ah, c'era un compo Di là C'è quel chasmosauro Ma Vabbè Che belli questi Ricordate quando l'abbiamo fatto in quella sfida Ora dobbiamo fare un giro un po' per tutto il parco Tutto il parco Voltaggia Oh E fare foto Ok Gli obiettivi sono Fotografa diversi dinosauri Fotografa diverse specie di dinosauri E guadagna un milione e mezzo Facendo fotografie Già sono passati 5 minuti Non sa fare niente Sto cercando di seguire il percorso qua del sentiero Per vedere dove ci porta Se non sbaglio l'avevo già fotografato Beh, meglio una foto in più che in meno Fidatevi Oh Stigimolo Come questo è molto molto bello Il cielo fisico è la piena Sto tornando indietro Sono questi Ciao signori Non so C'è un minimo Sono un Baryonyx L'obiettivo è andare sempre verso dove vedete La fotografia in alto Un indoor after libero? Ma stiamo scherzando? Ma no 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 Fra andiamocene Guarda sta musichetta Oh Quanto va sto indoor after? Ci avevamo già fotografato Sì Dove sono gli altri Che cominciano C'è qualcosa ancora da fotografare Sulla destra Dobbiamo trovare un passaggio A me c'era qualche percorso Tutto storto Per andare Ma questi erano un botto Ecco qua Beh ci sia una strada Seguiamola Vediamo dove ci porta Ok infatti qua c'è una nuova zona Oh questo dovrebbe valere un botto Ci sono 2000 Il cammello Il mayasaura Ok Gli altri sono qua davanti Mancano 8 minuti e 45 42 Quasi ho fatto una foto Parasauri Mi dice c'è un dinosaurio qui Ma non lo vedo Oh ma lo cefale Che sta correndo Vabbè Oh io sto fotografando Ogni cosa Che vedo respirare I piccoletti Procerati Sauri Via 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 che cos'è quello un allosauro ciao bro io me ne vado che belli i verdi però se non ti faccio verdi mancano 7 minuti dobbiamo guadagnare ancora un bel po' di soldi oh mi dice che c'è ancora qualcuno da fotografare da quel lato e questo è l'Iguanodont questa è la zona secondo me dove guadagno di più perché ci sono 12.000 diversi siamo puliti a Peiara lì ma chi li ha visti? io non li vedo vabbè ci mancano 200.000 soli in 6 minuti a me ce la facciamo andiamo un po' dei primi dinosauri che abbiamo fotografato dai ci mancano i soldi abbiamo fatto un po' delle foto a cazzo oh questa è bellissima erano 2000 guarda là quanti dinosauri c'è di tutto e di più in questa foto dai che ce la vinciamo qui? no non ci paga più niente ha fatto sauro e gallimimus pagamento troppo poco dai mancano qualche spiccio questa è pure una foto stupenda ma non ci paga più per fare cosa allora mamma mia che cotone che c'hai fammi passare ci mancano 20k abbiamo 5 minuti come fotografo non mi sento bravissimo anche se questa è stupenda col tramonto oh 1000 dollari la facciamo qui l'ultima applausi in ci rimanevano poco meno di 5 minuti l'abbiamo finita subito questo sarà il video più veloce della storia Jurassic World Evolution 2 torniamo al menu e vediamo cosa potremmo fare la prossima volta campagna completata al 100% teoria del caos 100% le sfide dice 48% perché le abbiamo fatte tutte ma manca la difficoltà per farle in altri modi le sandbox non so come funzionino però è tipo la creativa ok e poi abbiamo tutti i dlc ragazzi dove potremmo fare se voi volete l'espansione di dominio malta che attualmente è in offerta non so per quanto lo sarà l'espansione idominio biosin la mia sposa sarà bellissima ragazzi vedete i dinosauri questo però lo faccio scegliere a voi questo è il video probabilmente più breve che vedrete Jurassic World diciate voi quale espansione fare scrivetelo nei commenti se volete sostenermi ragazzi nei link in descrizione potete scrivermi anche su Instagram e farmi un regalino abbiamo finito di fotografare i nostri dinosauri abbiamo finito anche le sfide della modalità sfida in Jurassic World Evolution 2 se volete qualcosa di particolare oltre i dlc scrivetelo nei commenti e lo faremo con qualche sandbox particolare qualche richiesta da voi se non l'avete ancora fatto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale seguitemi in tutti i link che trovi in descrizione e ci vediamo al prossimo video chissà se ancora con Jurassic World Evolution 2 o con qualche nuova serie di giochi grazie a tutti grazie a tutti